Catania 2023 Catania 2023 sembra molto in anticipo, ma non lo è, perché quando si costruisce qualcosa si costruisce dalle basi. Se ci pensa prima, chi vuole fare le cose serie e impegnative? Un sogno da costruire insieme. Ed è bello questo slogan che la Franco Zappalà vuole dire, un sogno, che poi i sogni sono sicuro che diventano realtà. Leggo soltanto la prima rica di questo comunicato che la Franco ci ha fatto. Oggi mentre tutti parlano di elezioni regionali, di future alleanze per le nazionali, nessuno parla più della città di Catania. E qui si apre un mondo, perché, ahimè, la città di Catania è un momento sicuramente buio, nero e nessuno può dire il contrario. Lanfranco da sempre si dedica alla politica, dai quartieri ovviamente, poi si è ramificato al comune di Catania. Com'è la visione tua, personale, da cittadino, di questa Catania che attualmente trovi? È la visione che vedono tutti. Una città completamente abbandonata, una città che ha perso la sua entità, una città che ha perso i suoi valori. E soprattutto una città oggi in ginocchio. Hai detto bene, quando io ho scritto quelle due fasi, cioè nel momento in cui tutti parlano di elezioni regionali, di elezioni nazionali, nessuno parla più della città di Catania. Dico, al di là delle dimissioni del sindaco, se si dimetterà o se non si dimetterà, questo oggi poco importa. La città di Catania andrà a votare nel 2023 e nel 2023 bisogna iniziare a pensare oggi a quello che io chiamo campagna di ascolto. Allora dico, a differenza della politica che si è sempre fatta, quando i partiti o i programmi si sono presentati un mese prima delle elezioni, io voglio fare una cosa diversa, voglio aprire un linguaggio diverso con la cittadinanza, una cittadinanza che è sempre più lontana alla politica. Hai detto bene, tanti anni in Consiglio Comunale, ma in questo Consiglio Comunale non ho visto più la partecipazione di tanta gente all'attività politica della città. Allora io dico questo, ci candidiamo, mi candido, oggi a distanza di un anno, un anno di lavoro con un programma condiviso con la cittadinanza, sentendo settore per settore, imprenditori per imprenditore, giovani, donne, anziani, tutti elaborando un progetto per Catania. Per questo ho detto un sogno da costruire insieme, perché credo che insieme possiamo elaborare un programma. Spesso capita che quando si presenta un programma si presenta all'ultimo momento e tutto ciò che è scritto non viene mai realizzato, basta guardare il programma di questa ultima amministrazione. Io invece voglio fare una cosa diversa, partire un anno prima, parlare con la cittadinanza, coinvolgere la cittadinanza all'attività politica e dire guardate oggi abbiamo scritto tutti, al di là dei partiti e sono aperto a tutti i partiti. Appena ho questo programma elaborato con la cittadinanza, andrò io personalmente nei partiti e dire questo è il programma, lo volete condividere, lo volete sposare? Benissimo, posso essere solo contento, solo così ognuno può assumersi la responsabilità. Se non lo accetteranno andrò comunque avanti ugualmente da solo, perché credo che dopo tanti anni bisogna metterci la faccia e anche avere il coraggio di poter fare le cose. La procura del sindaco Salvo Pogliese, il comportamento, il movimento che lui è stato messo da parte, qual è il tuo pensiero, cosa vorresti dire a Pogliese, al sindaco, momentaneamente sospeso, cosa vorresti dire? Più che al sindaco, all'amico Pogliese, perché non posso dire che da ragazzi ci conosciamo, anche se su fronti diversi abbiamo fatto politica anche all'università insieme. Dico che mi dispiace che noi quando dicevamo che c'era il rischio che queste città potesse essere messe allo sbando, soprattutto insomma c'era questo rischio di questa sua pendenza, ahimè lo dicevamo a fin di bene, perché oggi avere una città senza un sindaco, francamente non è una cosa bella politicamente. Quindi da un punto di vista umano mi sono estremamente vicino e spero che lui possa risolversi questi problemi. Da un punto di vista politico devo purtroppo ahimè dire che non sono d'accordo, perché 14 mesi e tutto quello che c'è stato, una città nelle mani di nessuno, certamente la cosa più giusta è secondo me lasciare in questo momento la città, tornare al vuoto anche perché il Consiglio non cadrebbe, cadrebbe solamente la Giunta. Quindi io non vorrei che lui fosse ostaggio di questa Giunta o viceversa, la Giunta è ostaggio delle sue decisioni, che un giorno dice di dimettersi, un altro giorno dice di rimanere. Ma chi è che ci va di mezzo alla fine è la cittadinanza, si vede oggi sotto gli occhi di tutti, non c'è più una programmazione, anche sul discorso dei rifiuti abbiamo visto che l'amministrazione è stata non attenta nei confronti dei cittadini, non ha informato la gente di quello che stava accadendo, perché quando una discarica si chiude e uno dei problemi più importanti è anche quello dei rifiuti, bisogna informare la cittadinanza, per dire guardate sta accadendo questo, stiamo togliendo i cassonetti, cerchiamo di stringere la cinghia. Ciò non è avvenuto, non è anche l'informazione necessaria, neanche gli strumenti, i cestelli vengono dati alla cittadinanza. Quindi quando vediamo che viene a mancare una serie di programmazione, una serie di organizzazione, con chi ce la possiamo prendere? Se un sindaco non abbiamo nessuna interlocuzione, ovviamente con una Giunta, con una Giunta che non ha nessun diritto perché la gente ha votato il sindaco, non il sindaco facendo funzione. Quindi ecco, in un momento in cui la politica deve riprendere l'attività, soprattutto nei confronti dei cittadini, oggi è sempre più lontano. Solamente sull'Atari, questo aumento che hanno fatto del 18% con una delibera, abbiamo visto tanta gente che è venuta al palazzo, ma da anni non si è avvicinato più nessuno. Questo è un dato allarmante, significa che la gente non gli interessa più la politica. Ecco, per cui io dico, lavoriamo un anno prima, perché voglio non solo riavvicinare la politica nei confronti dei cittadini, che li voglio rendere partecipi, ma quello che diciamo deve essere mantenuto. Perché se in politica la parola non ha valore, la politica non ha valore. C'è un'altra faccia della medaglia, la figura di Enzo Bianco. Se lui si candida, che succede? Guardi, io ho un ottimo rapporto con Enzo Bianco, persona che stimo, ho appreso molto da lui qua in Consiglio Comunale. Io credo che se lui dovesse decidere di candidarsi, sono sicuro che troveremo insieme la soluzione migliore per il bene di questa città. Quindi io intanto sto partendo avanti, sto elaborando questo progetto con tutti quelli che, anche chi non ha mai fatto politica, oggi si vuole avvicinare in questo progetto. Catania 2023 è un sogno da costruire insieme, ma soprattutto un programma da elaborare, da condividere, un programma di ascolto che secondo me deve entrare nel cuore della gente. Per chiudere, gli ultimi 30 secondi per la città di Catania, il tuo messaggio. Allora, per la città di Catania, noi dobbiamo riaccendere un faro ad una città spenta. Dobbiamo avere la consapevolezza di avere l'orgoglio di sentirci catanesi, una città bella, caotica, ma estremamente delicata, dove ognuno di noi, con il proprio lavoro, deve cercare di portare questa città ai margini, non di quello che viene spesso segnalato nei giornali come la penultima città di vivibilità, ma al contrario, cercare di rialzare la testa, di fare risplendere questa città, di fare tornare il sorriso e di illuminare una città, purtroppo, che sta andando sempre più nel profondo baratro. Quello che posso augurarmi, o meglio, quello che vorrei che si lanciasse come messaggio a chi vuole intraprendere anche un programma elaborato, avvicinatevi. A volte il politico viene visto come una persona lontana, io sono uno che sta sempre in mezzo alla strada, parlo con la gente e sono sempre me stesso. Cerchiamo di tutti insieme di elaborare questo progetto. Poi, ovviamente, chi vuole sposare questa idea, il possesso è solamente ben lieto e ben contento. Dopodiché le battaglie sono battaglie. Io non mi sono mai tirato indietro, il coraggio l'ho avuto sempre e continuo sempre a essere me stesso. Un sogno da costruire insieme? Tu credi ancora ai sogni? Se i sogni si realizzano, guarda, se dovessi dire che tanti anni fa non ho pensato di metterci la faccia in prima persona, però ci ho pensato. Se questo pensare è un sogno, a volte si possono anche realizzare. Poi, ovviamente, devono essere portati a termine.